In questa vicenda Rai, una divaricazione nel Movimento 5 Stelle che un po' serpeggia sempre quella fra Di Maio e Conte perché non è soltanto una questione di retroscena per Di Maio, non c'era nessun problema sull'esito attuale, anzi è stato anche sentito, ha avuto dei contatti con l'amministratore delegato della Rai. Però noi dietro di lei c'è scritto che il ministro nega la trattativa parallela. Sì, nega la trattativa, però l'incontro c'è stato e quindi quello è incontrovertibile. L'incontro ce ne possono essere stati magari in cui si è discusso di altro. Il ministro è di altro, non si è discusso di questo. Lei non crede che ci sia un problema, una divisione nel Movimento 5 Stelle, anche perché anche Beppe Grillo è stato molto freddo. Ieri ha fatto un post sul suo blog, ma non è che ha detto gravissima la situazione della Rai, e ha detto che lavoriamo sulla settimana corta. Ma guardi, non vedo tutte queste divisioni, salvo le leggo spesso, come mi trovo spesso a dirlo, che le leggo sui giornali, poi noi chiaramente discutiamo tutto in maniera accesa, vengono molto alimentate da queste notizie che escono e poi vengono smentite, però su questo non credo che ci sia stata una trattativa parallela. Insomma, la posizione del 5 Stelle è sempre stata chiarissima, le ripeto, dalla passata legislatura, per cui non è una questione di caselle, è proprio una questione di porre una tematica di discussione rispetto a come si dovrebbero gestire le nomine all'interno del servizio pubblico. Lei ieri ha incontrato il Presidente del Consiglio, ovviamente perché c'è stato il Consiglio dei Ministri, le ha detto qualcosa rispetto a questa vicenda, ha trovato un atteggiamento critico, c'è stato da parte sua per il fatto che è stata gestita dal governo, come per la verità è sempre accaduto, però insomma c'è stata anche un'azione del governo nella gestione della partita, Rai. No, no, su questo l'unica occasione di dialogo l'ha avuta proprio sulla conferenza nazionale sulle tossicodipendenze, che chiaramente non tenendosi da 12 anni a dei rilievi di delicatezza di un certo tipo, per cui abbiamo avuto un breve dialogo su questo nello specifico che afferisce le mie deleghe, per cui ho potuto specificarle una serie di cose. Però lei non ha sentito la necessità di dire, insomma non è piaciuta tanto questa... A me mi pare evidente, non credo che serva la mia sottolineatura, mi pare abbastanza chiara e pacifica il fatto che non si sia gradita la modalità. Queste prese di positivo...